Fa passi avanti l'iter per la costruzione della casa di Laos a Santa Maria del Cedro, si avvia dunque a realizzazione uno dei tanti progetti sul territorio che puntano ad elevare l'offerta culturale e turistica investendo nel campo dell'archeologia. Opera finanziata nell'ambito del progetto integrato di sviluppo locale Welcome Costa dei Cedri Porta di Apollo per 910 mila euro, i lavori inizieranno a fine mese. È un'importante opera perché si collega agli scavi di Laos qua vicini che prevede la realizzazione di un edificio destinato a valorizzare gli scavi con all'interno una parte da destinare all'ostello per ospitare studenti italiani e stranieri che si interessano di archeologia, una sala conferenze, un laboratorio per il restauro dei reperti che vengono rinvenuti negli scavi di Laos, un punto d'accoglienza, creare un sistema per valorizzare gli scavi di Laos. Il progetto prevede la demolizione della struttura che c'è alle mie spalle di proprietà della chiesa che stiamo acquistando. L'ultimo passaggio importante è stato l'ok da parte dell'Agenzia delle Entrate per la valutazione e quindi per procedere all'acquisto. Un progetto che mira dunque a mettere in rete le ricchezze di Santa Maria del Cedro, cultura, mare e cedro, anche attraverso la realizzazione del lungo fiume e la valorizzazione del carcere dell'impresa. Lavori portati avanti in un periodo di forte crisi economica che investe soprattutto i piccoli comuni. Con i fondi comunali poco riusciamo a fare se non l'ordinario, però siamo sempre attenti nel reperire fondi che la comunità europea mette a disposizione. Spero che a breve potrò darvi notizie di ulteriori finanziamenti. Noi cerchiamo di non lasciarcene sfuggire. Su questa strada l'amministrazione comunale continua nella realizzazione di altre opere. Ieri proprio l'efficientamento energetico della scuola media di Santa Maria su Via Lavinium, un paio di giorni fa il terzo tratto del lungomare, quello che abbiamo chiamato i giardini del mare, ultimati i marciapiedi su Pastina, ultimati i marciapiedi su Via Nazionale e procedono gli altri cantieri in corso. Grazie a tutti.